Ciao a tutti, sono Federico Lepre, il Goro, quindi diciamo il personaggio un po' cattivo della situazione. Come vedete, inquadratura please, sono già pronto per una partita in a golf. Perché a golf? Perché saremmo al castello di Spessa, quindi l'opera sarà ambientata anche con queste particolarità appunto anche del gioco del golf. E come dicevo prima, il mio ruolo è forse il ruolo un po' più particolare dell'opera, quello cattivo. Anche se lui in realtà non è cattivo, è semplicemente legato a questi, ai soldi, quindi fa i suoi interessi per necessità, per volontà. E quindi niente, vi attendo, vi aspettiamo tutti con questo cattivissimo personaggio Goro.